Ciao a tutti, sono Letizia Ghiroldi e sono la campionessa del mondo di pattinaggio artistico Rotel. Ho iniziato a pattinare quando avevo tre anni, grazie a mio zio che è il mio allenatore e ho continuato a portare avanti la mia passione fino ad adesso e spero che continui per tanto, tanto, tanto tempo. Per due anni avrei desiderato fare la ballerina di danza classica, però dopo aver provato un anno a mettere il tutù diciamo l'ho abbandonato, ho preferito restare con i miei pattini. Quando pattino mi sento più libera perché nella danza, diciamo che una componente di danza c'è anche all'interno del pattinaggio però all'interno del pattinaggio ci sono anche le difficoltà, cioè i salti, le trottole ed è quello che mi piace molto fare. Io ho praticato per anni le tre specialità che c'erano, gli obbligatori, il libero e la combinata. Poi siccome da quest'anno è stata tolta la combinata, ho deciso di specializzarmi soprattutto nel libero e di fare solo quello e quindi ho abbandonato gli obbligatori e d'ora in poi farò solamente la specialità libero. Allora, il risultato più emozionante in realtà non è una vittoria, ma è il terzo posto al primo campionato del mondo di Taipei nel 2013 perché c'erano tante persone che credevano in me e che innanzitutto mi hanno convocata a questo mondiale nonostante non avessi l'età per partecipare, quindi è stata un po' una prova e dovevo dimostrare di saper fare le cose, di meritarmi di essere lì e credo di essere riuscita a dimostrarlo. Mio zio è sempre stato il mio punto di riferimento, gli ho sempre detto che volevo batterlo e infatti lui è arrivato secondo al campionato del mondo. Io non l'ho ancora battuto perché è arrivato secondo nella categoria senior, quindi devo ancora arrivarci, spero di riuscirci. Allora, la trasferta è stata lunghissima, infatti siamo stati via due settimane, dal 14 di settembre al 27 di settembre e è stato un po' insolito perché di solito si faceva separato dalla categoria senior, invece quest'anno l'abbiamo fatto tutti insieme, quindi eravamo una grande squadra, inoltre gli ultimi giorni sono arrivati anche i gruppi, i gruppi spettacolo, i gruppi precision e quindi è stata una trasferta con molte persone e molto lunga, stancante sotto certi aspetti e poi divertente in quanto ci siamo divertiti molto da stare tutti insieme e il fatto che non potessimo uscire dall'hotel era una cosa un po' non dico stressante, però stare tutto il giorno in hotel creava un po' di noia, però abbiamo saputo rimediare anche a questo piccolo particolare. Sì, perché comunque gli italiani sono i più forti in questo sport e quindi c'è da tenerli. Vi consiglierei di provare perché questo sport non è uno di quelli a cui ti puoi dedicare sapendo di poter trovare un lavoro o comunque di farlo diventare il lavoro di una vita, è proprio una passione, bisogna appassionarsi a questo sport per praticarlo. Il mio obiettivo è imparare i nuovi salti per la nuova categoria, infatti sarò nella categoria senior e riuscire a fare del mio meglio come ho sempre cercato di fare perché il mio obiettivo per l'anno prossimo sarà proprio di fare bene tutto quello che riuscirò a fare.